Sono sbarcati 179 migranti oggi a Pozzallo, tra questi anche una donna che è stata ricoverata d'urgenza al maggiore di Modica per delle gravi ustioni. Già attiva la macchina delle forze dell'ordine per rintracciare gli scafisti. Sono stati nomirati i periti che valuteranno le condizioni mentali di Veronica Panarello, l'avvocato della donna Francesco Villardita oggi ha ufficializzato i nomi. È rientrata la protesta dei netturbini a Ragusa, l'amministrazione e la prefettura avevano promosso un incontro sul tema e i patti sono stati rispettati, tutelati tutti i posti di lavoro. Lavori alla circonvallazione artisiana di Modica dove i marciapiedi si stanno adeguando alla circolazione anche delle carrozzine. Il sindaco di Modica ha parlato di atto grande di civiltà ma soprattutto atto dovuto alla città. 16 minuti dopo le 14 siamo tornati in diretta con l'informazione su Video Mediterraneo. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Dunque l'avete sentito dai titoli Ennesimo sbarco. Questa mattina a Pozzallo sono arrivate 179 persone. È già attiva la macchina delle forze dell'ordine per quanto riguarda il sopralluogo e i fotosegnalamenti che porteranno poi a rintracciare gli scafisti. Intanto una donna è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale maggiore di Modica per delle gravi ustioni riportate. Alle 11 e 45 di oggi si sono concluse le operazioni di sbarco al porto di Pozzallo di 179 migranti. Sono 151 uomini, 26 donne e 2 milioni accompagnati provenienti dall'Africa sud-sahariana, Nigeria, Somalia, Etiopia e Gambia. Il gruppo viaggiava su demarcazione ed è stato soccorso a nord della Libia dalla nave della Guardia Costiera Corsi. Una ragazza di 23 anni è stata ricoverata per ustioni di terzo grado al gluteo. Le ferite testimoniano il trattamento disumano nei confronti delle donne da parte degli scafisti che ammastrano nel barcone un numero di immigrati che supera la capacità consentita. Secondo i primi accertamenti la ragazza ustionata è rimasta seduta sul motore del natante per almeno 4 giorni, per tutto era attraversata dalla Libia al canale di Sicilia senza possibilità di potersi divincolare. La giovane è stata trasferita d'urgenza nel reparto di chirurgia dell'ospedale maggiore di Modica dove il responsabile Vincenzo Antonacci l'ha sottoposta ad un intervento delicato di decompressione sul gluteo per scongiurare l'infezione. Un punto molto importante deve essere trattato quello vicino al nervo sciatico. Il direttore sanitario Piero Bonoma ha chiarito che il suo staff farà di tutto per curare la grave ustione ma la donna necessita il trasferimento in una struttura specializzata. Al centro grandi ustioni di Catania non c'era disponibilità di un posto letto. Al porto di Pozzallo intanto la polizia giudiziaria ha già il lavoro con l'interprete per identificare gli scafisti con l'escussione dei migranti. È slittata al 21 dicembre l'udienza per quanto riguarda il processo dell'omicidio di Loris Stival in cui si trova imputata Veronica Panarello, madre del piccolo trovato morto in un canalone il 29 novembre dello scorso anno. Intanto sono stati nominati i periti che eseguiranno la perizia psichiatrica su Veronica Panarello. Sono due consulenti tecnici nominati dal gruppo del Tribunale di Ragusa Andrea Reale per verificare se Veronica Panarello, quando ha occultato il cadavere, secondo la missione diretta dell'imputata del figlio Loris era lucida o incapace anche temporaneamente di intendere e volere. A sottoporre la giovane accusata di omicidio aggravato dalla crudeltà del grado di parentela e della premeditazione oltre all'occultamento del cadavere sarà Roberto Catanesi, professore ordinario di psicopatologia forense presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, coordinatore della sezione criminologia e psichiatria forense del Dipartimento di medicina interna e medicina pubblica della stessa università. Il secondo perito è il catanesi Eugenio Guglia, ordinario di psichiatria della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste e vicepresidente della società italiana di neuropsicofarmacologia e della società italiana di psichiatria forense. L'udienza per l'affidamento dell'incarico è slizzata il 21 dicembre perché il 14 dello stesso mese uno dei due CTU non potrà essere presente. Anche il legale della Panarello Villardita ha anticipato i nomi dei due periti che nominerà, si tratta di Giuseppe Sartori, neuropsicopatologo dell'Università di Padova e Pietro Pietrini, psichiatra e direttore di cattedra dell'Università di Pisa. Nomi già noti perché gli stessi erano stati incaricati dall'avvocato Francesco Villardita per la perizia sulla capacità genitoriale della sua assistita. Anche il legale della parte offesa, Daniele Scrofani nominerà i periti di parte. Le uniche parti civili ammesse sono il padre di Loris, Davide e i nonni paterni. Incidente sul lavoro incontrata a Santa Rosalia Scicli, un uomo di 46 anni è precipitato mentre sistemava la copertura per le serre in un'azienda agricola. Trasportata in ospedale gli è stato riscontrato un trauma al braccio destro, non è grave. Al momento non è stata data alcuna responsabilità al titolare dell'azienda, sul posto I Carabinieri e il 118. Cambiamo argomento, ci spostiamo in territorio etneo, nello specifico ad Adrano dove è stata portata a termine un'importante operazione promossa dalla polizia di Adrano e dalla squadra mobile che ha consentito di stroncare un'organizzazione criminale dedita allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti. Erano dediti alle rapine e al traffico di stupefacenti. Da anni operavano soprattutto nel territorio di Adrano e Biancavilla. Stamattina la banda è stata disarticolata grazie a un'intensa attività di indagine portata avanti al commissariato di Adrano di concerto con la squadra mobile. Grazie all'operazione Aderno sono state arrestate 26 persone. La misura cautelare ha riguardato tre destinte associazioni criminali operanti ad Adrano e nei comuni limitrofi delle quali due dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed una alla commissione di reati contro il patrimonio quali rapine e furti. Tra i destinatari della misura figurano Vito Amoroso, elemento di rango epicale, l'organizzazione mafiosa toscano Mazzaglia Tomasello di Biancavilla, alleata della famiglia di Costa Nostra Catanese Santa Paola Ercolano e Francesco Rosano appartenente all'omonima famiglia organica alla cosca San D'Angelo Taccuni, operante ad Adrano, anch'essa alleata della famiglia Santa Paola Ercolano. Le indagini hanno evidenziato che sul mercato di Adrano e nei comuni limitrofi veniva immessa droga di tipo cocaina e marijuana proveniente da Catania, nonché il metadone. Le investigazioni hanno evidenziato un'organizzazione dedita alla commissione di reati contro il patrimonio, tra cui soprattutto rapine ad auto articolati. Le indagini hanno consentito di fare luce su sei rapine, delle quali tre i danni di autotrasportatori e tre scippi commessi tra il dicembre 2012 e il mese di giugno 2013 con alcuni arresti eseguiti nel corso delle indagini. In una di queste rapine l'autotrasportatore è stato portato addirittura a Palermo sotto sequestro. Due destinatari alla misura restrittiva sono irreperibili perché all'estero. Si hanno notizia di alcune rapine perché risulta da intercettazioni a telefono, però non ci sono state in tutti i casi le denunce delle parto offese, quindi si cercherà di individuare nei limiti del possibile anche le parto offese di queste rapine. Rapine che servivano per comprare gli stupefacenti perché molto è stato sequestrato e è stato accertato il traffico di stupefacenti considerevole e peraltro alcune di queste soggette arrestate sono vicine a cosca mafiose. Da Adrano ci spostiamo a Modica dove è stata promossa un'operazione antidroga che ha portato al sequestro di due chilogrammi di marijuana e al rispettivo arresto per detenzione ai fini di spaccio di un 23enne. Sembra nell'ambito dei controlli del territorio i carabinieri della compagnia di Modica hanno arrestato un pregiudicato per il reato di evasione. I carabinieri della compagnia di Modica hanno sequestrato due chili di marijuana, arrestato un albanese di 23 anni, Jetmir Marra, già noto alle forze di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari in questa operazione antidroga sono stati supportati da una unità del nucleo cinofili di carabinieri di Nicolosi. A Scicli, in casa dell'arrestato, è stato rinvenuto un grosso involucro contenente più di un kilo di marijuana che era stato ben occultato nel proprio garage. I carabinieri hanno trovato nascosti in un mobile della camera da letto un altro involucro con quasi 600 grammi, altri tre, di peso complessivo di circa 200 grammi della stessa sostanza per un totale di quasi due chili di marijuana. Marra, incostrato alle sue responsabilità, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente condotto in carcere a Ragusa. La droga è stata trasmessa ai laboratori di analisi dell'ASP di Ragusa per le successive analisi qualitative e quantitative. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dello stupefacente e l'esistenza di un'eventuale organizzazione che gestisce lo spaccio sul territorio. Nel volgere di 24 ore invece è scappato di casa evadendo dagli arresti domiciliari il 49enne Giuseppe Iozzia. Ieri è stato beccato in via Sorocuore mentre stava tranquillamente passeggiando, mentre il giorno prima era stato sorpreso in via Sorda-Sampieri. L'uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione dove già è evaso due volte. I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno arrestato un 55enne del posto in ottemperanza all'ordine di esecuzione per la carcerazione. Il pregiudicato deve scontare la pena residua di sei mesi di reclusione per il reato di evasione commesso nel 2013 sempre nel centro Ipparino. L'uomo è stato rimesso in libertà su disposizione del sostituto procuratore presso il Tribunale Ibleo Alessia Laplaca per i provvedimenti di competenza. Adesso cambiamo argomento, parliamo dei netturbini della provincia di Ragusa, nello specifico quelli della città di Ragusa e quelli di Modica. Mentre per il primo caso rientra la protesta in quanto sono stati rispettati gli accordi posti in essere dalla prefettura e dall'amministrazione che hanno tutelato tutti i posti di lavoro, il malcontento invece rimane a Modica. I netturbini di Ragusa hanno ritirato la protesta. Non ci sarà lo sciopro il 14 dicembre e il CT nel 15. Sono state date ampie rassicurazioni sulla dotazione organica e sugli accordi decentrati di secondo livello, cioè tutti i dipendenti escluso nessuno transiteranno nella nuova impresa ambientale e tutti gli accordi di secondo livello a contenuto economico saranno salvaguardati. Il prefetto di Ragusa ha annunciato Vardè e è stato interessato alla vicenda che adesso si appresta ad avere un lieto fine. Il capitolato speciale d'appalto doveva essere approvato dal Consiglio Comunale la settimana scorsa, ma l'aula è stata occupata dai netturbini e il presidente Giovanni Iacone è stato costretto a rinviare la seduta, aggiornata stasera. Il clima è incandescente sul fronte ai rifiuti e invece a Modica. I 104 dipendenti della ditta Puccia hanno percepito un acconto di 500 euro del mese di settembre a fronte di un mandato di pagamento di 200 mila euro. Da un lato il sindaco Ignazio Abate in base alla liquidità di cassa adempia i patti firmati con la ditta, mentre quest'ultima, secondo i sindacati, con le somme largite dal Comune avrebbe potuto pagare una mensilità e non un acconto. Secondo la Uildor, Gio Puccia ha speso 50 mila euro per dare una parte allo stipendio e gli altri 150 mila, il titolare dell'impresa ha spiegato che sono somme irrisorie e servite a pagare anche i contributi, i distributori e i meccanici. Puccia, come scritto nel capitolato d'appalto, deve anticipare tre mensilità e invece ha dato un acconto di giugno, luglio e agosto. I netturbini sono fermi a settembre, sta già maturando novembre e si pensa anche al Natale e soprattutto a com'è ricevere altre mensilità. Prima del 28 dicembre, secondo la CGL, il Comune di Modica non emetterà un altro mandato di pagamento. Giorgio Puccia ha elencato i costi che deve sostenere ogni mese, le spese mediche, gli oneri di sicurezza, oltre al trasporto. La Uildrasporti per bocca di Antonio Sabellini ha chiesto un incontro al prefetto di Ragusa affinché intervenga per porre fine al gioco il rimbalzo delle responsabilità dei due attori, comune ditta, e soprattutto per rimediare a questo stato di assoluto sconforto e prostrazione cui sono costretti a vivere i lavoratori a causa delle loro inadempienze. Intanto, il 16 dicembre, l'Urega dovrebbe, dopo 4 ore in V, aprire le busse per verificare l'idoneità delle 7 ditte che si contendono nel servizio di nettezza urbana che Dani è gestito da Puccia con continue proroghe. Tra l'impresa e il sindaco non corrono buoni rapporti. I loro dissidi sono sul tavolo del Tar e anche del CGA, con un ricorso presentato in appello dal primo cittadino contro l'avvertenza di Puccia in merito alla richiesta di aumento dei costi di gestione del servizio. Sul trasferimento delle somme dall'IRSAP di Ragusa interviene anche l'onorevole Orazio Ragusa che ha ricevuto comunicazione dal commissario ad acta IRSAP che la delibere in questione sarà sospesa in via cautelativa per ulteriori approfondimenti. È stata la stessa, dirlo l'onorevole Orazio Ragusa, sottolineando di avere già informato il direttore generale che aveva disposto il trasferimento di mezzo milioni di euro di risorse economiche appartenenti all'ente di Ragusa per colmare i debiti di altri ex consorzi ASI. Andiamo a Modica dove si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale che è stato rinviato a lunedì per discutere sempre del piano spiagge. Ancora nulla di fatto per il piano spiagge a Marina di Modica, ennesima seduta a vuoto quella di ieri sera del Consiglio Comunale che è stata aggiornata al prossimo 14 dicembre. Il punto relativo alla votazione della condivisione del piano spiagge non è stato posto nelle condizioni di essere affrontato in quanto mancava un'autocertificazione di posizione di compatibilità o meno da parte del consigliere Massimo Puccia. Tra l'altro ieri era assente in aula che rischia di inficiare nel caso di incompatibilità l'iter che ha portato sino alla civica assise l'atto deliberativo. Una nota di diffida sarà recapitata da parte della Presidenza del Consiglio Comunale al consigliere affinché produca l'autocertificazione entro le 14 di lunedì prossimo, giorno in cui il Consiglio Comunale tornerà in aula per affrontare l'argomento. Per il Sindaco Ignazio Abate si tratterebbe di una questione politica in quanto un consigliere che intende paralizzare i lavori d'aula non starebbe facendo gli interessi della città. Un atto di pianificazione importante e strategico per lo sviluppo dei centri balneari che si intendono disciplinare con regole ben precise. Insomma, dopo una serie di interventi sull'incompatibilità o meno del consigliere Puccia la discussione è stata rinviata. Il consigliere Covato ha detto che considerato che si sono perse delle sedute su questo argomento rinuncia al gettone di presenza e invita a fare lo stesso anche gli altri consiglieri destinando il tutto in beneficenza. Andiamo a Ragusa dove il consigliere del PD Mario D'Asta torna a occuparsi di una questione che in città interessa numerosi amanti degli animali e soprattutto dei cani. D'Asta ha predisposto una interrogazione che sarà sottoposta al Sindaco e all'Assessore alla tutela degli animali per sottolineare la mancanza di un'area o più aree riservate allo sgambettamento dei cani. L'amministrazione comunale, scrive il consigliere D'Asta, ha individuato all'interno del campo di calcio dello stadietto Gianni Biazzo di via Archimede un'area che però non è ancora pronta. Mancherebbero infatti circa 3.500 euro per la predisposizione di una recinzione ulteriore che dovrebbe rendere la zona completamente adatta. i proprietari di cani ad oggi si recano al parco Giovanni Paolo II che non essendo attrezzato per una simile evenienza si è trasformato in una grande latrina all'aperto. Andiamo a Modica dove continuano i lavori per la ripavimentazione stradale nello specifico andiamo in via Circonvallazione Ortisiana nel quartiere Sorda dove si stanno rifacendo nuovamente i marciapiedi per abbattere le barriere architettoniche. Si sta lavorando a rifare il look del marciapiede di tutta la circonvallazione ortisiana a Modica. I lavori sono già in corso e il sindaco Ignazio Abate ha effettuato un sopralluogo per vedere lo stato di avanzamento dei lavori che serviranno ad abbattere le barriere architettoniche per troppi anni presenti in quella zona e che causano parecchi disagi ai disabili che vi risiedono uno dei quali si è rivolto nei giorni scorsi alla nostra redazione segnalando lo stato di degrado dei marciapiedi. I lavori inoltre riguardano anche la sistemazione delle mattonelle alcune delle quali diverte insomma una zona molto frequentata da chi ama lo sport e non solo e che a breve potrà godere di nuovi marciapiedi. Certo, dopo i lavori di sistemazione si dovrà provvedere ad aumentare i controlli in quella zona soprattutto per le persone che portano a spasso i propri cani e che incuranti del grave gesto che compiono lasciano gli escrementi sul marciapiede causando veri e propri disagi a chi tutti i giorni frequenta la zona. Abbiamo fatto un progetto ad hoc proprio per poter ripristinare e riprendere tutta questa parte della circonvallazione ortisiana sappiamo quante persone abitano qua e quante persone vengono per poter fare un po' di footing e fare una passeggiata in questo quartiere. Abbiamo sistemato l'impianto di illuminazione abbiamo creato nei bambinopoli stiamo cercando di togliere quello che è il ristagno dell'acqua specialmente quando ci sono acquazzoni che completamente va in tilt la viabilità in questa zona quindi questa zona, come avevamo promesso è stata attenzionata e si stanno risolvendo tutti i problemi che sono stati cronici per anni. Continuano i lavori di manutenzione nel sito di San Giuseppe Utimpune a Modica soprattutto negli arredi che sono stati deturpati da atti di vandalismo che hanno preso di mira passerelle, rampioni, spaccati e sottratti e servizi igienici. Il luogo è reso oggi ospitale grazie alla gestione del Verde che è affidata all'azienda Foreste De Maniali della regione siciliana. I servizi di assistenza domiciliare a Modica per l'area anziana e per quella disabili saranno attivati dal lunedì 14 dicembre. Sono stati sottoscritti ieri nella sede dei servizi sociali a Palazzo Campailla infatti i patti di accreditamento con le cooperative 8 per i servizi agli anziani e 6 per i disabili che è atto essenziale e propedeutico per l'avvio dei servizi. Con la firma dei patti dichiara l'assessore ai servizi sociali del comune di Modica, Rita Floridia l'utente avrà la possibilità di scegliere fra i servizi offerti dalle cooperative accreditate quelli che rispondono maggiormente alle proprie esigenze. Questo rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il miglioramento dei servizi che vengono erogati ai cittadini. Si è svolto ieri presso gli uffici dell'assessorato all'istruzione del comune di Vittoria il primo incontro della commissione mensa un progetto fortemente voluto dal comitato genitori scuole Vittoria e che dopo mesi di lavoro dei rappresentanti del comitato insieme all'assessorato alla pubblica istruzione di Vittoria è diventato finalmente una realtà. Scopo fondamentale della commissione è quello di migliorare la qualità della riflessione scolastica grazie al contributo di genitori e insegnanti che si faranno da portavoce delle eventuali criticità del servizio di mensa scolastica e potranno suggerire proposte per modificarlo. Parliamo adesso di karate Giuseppe Panagia di 16 anni di Vittoria è stato l'assegnatario del premio Salvatore Padua 2015 la commissione ha scelto il giovane quale atleta dell'anno per i suoi ultimi risultati raggiunti nelle ultime due stagioni che lo hanno portato a partecipare con la maglia azzurra ai recenti mondiali in Indonesia dove ha superato il primo turno delle eliminatorie perdendo poi al secondo turno contro un atleta francese che aveva già battuto tre volte la consegna del premio avverrà il 21 dicembre alle 18 nel corso della cerimonia nella sala convegni del Palazzo della Provincia e chiuderà oggi alle 20 la prima collettiva d'arte contemporanea Convivio d'Arte in esposizione a Palazzo dell'Eva è curata dall'Alxe insieme al FormArt e al Centro Studi della Contea di Modica Convivio d'Arte è stata un'esposizione servita a far apprezzare a tanti la varietà delle tante sfaccettature e correnti d'arte contemporanea degli artisti che hanno esposto si tratta di giovani ancora in erba allievi del Campailla ancora non molto conosciuti ed apprezzati dal grande pubblico sono le 14.36 minuti ci fermiamo per la pubblicità ma torniamo subito dopo le 14.40 non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie pertanto questa edizione termina qua grazie per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti